... Annuncio shock del senatore russo che rinuncia alla candidatura in Parlamento e punge il nemico rosato. Non ci sono le condizioni per un mio impegno. Centro-destra oltre il 40%, centrosinistra al 34,5, 5 stelle al 23. Risultati e regioni di un sondaggio commissionato da Fratelli d'Italia a RPR. Il governo potrebbe aprire un tavolo sul caso Eton, lo afferma la senatrice Fasiolo. I lavoratori guardano intanto a Fincantieri. I carabinieri intervengono per una segnalazione di schiamazzi in centro-città ma finiscono per arrestare per spaccio di droga due giovani e denunciano un terzo. I pediatri triestini invitano i genitori a un corso antisoffocamento. In questo modo si crea una rete di sicurezza non soltanto per i più piccoli. Sul carso, seguendo la bora, un articolo del Guardian, altrimenti perfetto, dimentica il fenomeno delle grotte eoliche. Cento volte Alma che sul classer di nuovi con 41 punti di scarto nella prima del girone di ritorno e si conferma saldamente in testa al campionato. Buonasera e bentrovati a una nuova edizione del telegiornale di Telequattro. Il senatore del PD, Francesco Russo, poco fa in una partecipata assemblea all'hotel Savoia, ha annunciato la sua rinuncia alla ricandidatura in Parlamento. Peraltro non mandandole a dire al suo nemico interno, al partito, l'altro triestino, il capogruppo alla Camera, Ettore Rosato. Sentiamo la sua intervista registrata qualche istante prima proprio del suo annuncio. Ma questa sera ho annunciato che il mio impegno in Parlamento finisce qui. Io non sarò nelle liste delle elezioni politiche il 4 marzo prossimo. Annuncio shock del senatore Francesco Russo del PD che lascia la corsa al Parlamento. Per il professore universitario, il cui nome resterà indelebilmente legato a quell'emendamento che diede il via libera alla sdemanializzazione del Porto Vecchio, non una decisione dettata da disaffezione alla politica né ad altre scelte personali, ma un passo indietro di fronte ai contrasti in seno alle correnti interne ai democratici e in particolare al veto posto sul suo nome dall'altro parlamentare triestino, Ettore Rosato, capogruppo alla Camera del PD e molto vicino a Renzi. Non scappo, non lascio la politica, farò la prossima campagna elettorale con la passione di sempre da volontario. Soltanto poi, se e quando ci saranno le condizioni, potrò tornare in prima fila per nuove sfide vicine o lontane che siano. Ma soltanto se ci saranno le condizioni. In questi ultimi giorni anche in un colloquio, seppure cordiale con Ettore Rosato, ho colto che in questo momento non c'erano. Non c'erano e io non sono disponibile a rinunciare alla mia libertà, alle mie idee, seppure in un complesso gioco di squadra per la garanzia di un posto al Senato. Archiviate le frecciate politiche, evidente come quello di Russo non sia un addio, ma semplicemente un arrivederci. Ma inizio ringraziando il presidente Zanda per essere venuto a Trieste oggi e il vice segretario nazionale Martina per aver fatto il mio nome a Matteo Renzi chiedendo che io sia ricandidato e rieletto anche alla prossima legislatura del Senato. La loro amicizia e la loro stima è per me un grande motivo di orgoglio, così come l'affetto dei cittadini che mi hanno accompagnato in questi cinque anni e che anche in queste settimane mi chiedono di rimanere ancora per la prossima legislatura il loro parlamentare. E allora Università di Udine a parte, dove insegna storia della scuola e politica della formazione, quale futuro per Russo? I beninformati parlano già di un suppossibile ruolo di punta alle regionali, specie se il PD non dovesse raccogliere un risultato significativo alle politiche e le correnti dei Contras rispetto all'ala di Rosato e Saracchiani dovessero conquistare maggiore voce in capitolo. Bene, diamo lettura ora di un sondaggio commissionato da Fratelli d'Italia a RPR sulle intenzioni di voto al 5 gennaio 2018, sondaggio effettuato su un campione di 1959 persone contattate dal 2 al 5 gennaio. Vediamo i dati di questo sondaggio che vedete come vedete in sovraimpressione il PD al 24,9%, gli altri partiti di centro-sinistra al 3,1%, il Movimento 5 Stelle al 23,3%, poi nel centro-destra Forza Italia al 16,5%, Lega per Salvini al 12,9%, Fratelli d'Italia al 7,2%, altri partiti al 4,9%, tutto questo in Friuli Venezia Giulia. Poi andiamo al grafico a torta invece del sondaggio che invece raffigura le coalizioni, il centro-destra secondo questo sondaggio di RPR in vantaggio con il 41,6%, Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, autonomia responsabile, progetto Friuli Venezia Giulia tra i partiti inseriti nella coalizione, poi il centro-sinistra al 34,5%, Partito Democratico, Civica di Sinistra, Liberi Uguali, articolo 1 MDP tra i partiti ricompresi in questa fetta del grafico e poi il 23,3% Movimento 5 Stelle con la lista Cecotti. Gli indecisi stando a questo sondaggio sarebbero al 18,3%, non voto ovvero non votanti 24,8%. Andiamo avanti ancora con la politica, si tratta di una differenza di vedute soprattutto sui tempi da adottare per acquisire da prefettura e enti gestori dati sui richiedenti asilo residenti a Trieste. Minimizzano così Piero Camber e Paolo Polidori di Forza Italia e Lega i contrasti sorti in Consiglio Comunale su questo tema all'interno della coalizione di centro-destra. Qualche istante per preparare la regia, eccolo qua. Sono emersi diverse problematiche all'interno della Commissione e il caso di vagliarle tutte ma in maniera puntuale e precisa con dati oggettivi. Uno degli aspetti emersi dall'indagine della Commissione speciale sui migranti istituita dal Consiglio Comunale riguarda la forte discrepanza tra il numero di soggetti accolti in città fornito dalla Prefettura e quello risultante all'anagrafe, 974 contro 1500 e la mancanza dell'effettivo indirizzo di residenza sostituita agli atti con il generico presso la Casa Comunale. Si tratta in ogni caso di informazioni delicate, spiega il capogruppo forzista Piero Camber, che possono avere anche ricadute negative. Qui parliamo di case, di residenza, eccetera. Rischiamo anche di dare un brutto colpo ai mercati immobiliari triestino. Chi mai comperebbe, e questo è l'oggettivo, un appartamento in una casa che ha già due o tre appartamenti occupati da richiedenti asilo, questo riesce a valutare brutalmente i valori di mercato. E nelle intenzioni della Commissione guidata dall'Azzurro Everest Bertoli vi era la volontà di proporre al Consiglio Comunale, al termine dei lavori che si concluderanno fra qualche settimana, di chiedere agli enti gestori l'indicazione di dati certi pena l'erogazione di sanzioni, ma il gruppo della Lega Nord ha deciso di bruciare le tappe presentando una mozione che ha appunto per oggetto le residenze dei richiedenti asilo. Da tale decisione è scatturita una polemica con Forza Italia, il cui capogruppo Camber ha chiesto il ritiro del documento. Viceversa il capogruppo del Carroccio, Paolo Polidori, non intende fare marcia indietro. La mozione si basa principalmente su due punti. Uno è il fatto che la prefettura non ha comunicato come per legge la residenza effettiva dei migranti. Secondariamente il fatto che il sindaco è responsabile della questione sociosanitaria dei suoi cittadini, per cui non conoscendo la residenza non può neanche prendere gli opportuni provvedimenti. Quindi da questo punto di vista non vedo quale sia il problema di portare avanti un'istanza come lo può fare qualsiasi consigliere, cosa che non è prerogativa della Commissione. Dal punto di vista della sostanza nulla cambia. Quindi non ci sono posizioni contrapposte tra Lega e Forza Italia, ma forse qualche differenza di vedute. Sono una questione di tempistica. Io dico chiudiamo la Commissione, prendiamo dati certi, oggettivi e dopodiché affrontiamo tutti gli argomenti. Torniamo a parlare della chiusura della Eton di Monfalcone. Ieri l'incontro fra i rappresentanti dei lavoratori e alcuni parlamentari. La senatrice Fasiolo ha interessato il vice ministro Bellanova per l'apertura di un tavolo ministeriale. Il caso Eton, la storica fabbrica monfalconese specializzata nella produzione di valvore per automobili di cui è stata annunciata la chiusura, arriva sul tavolo del governo. Nella notizia la senatrice PD Laura Fasiolo che ieri, dopo aver incontrato assieme ad altri parlamentari della regione i lavoratori e i loro rappresentanti, ha contattato il vice ministro Bellanova. Ha chiesto di inviare una scheda, segnalare la situazione abbastanza dettagliato, cosa che abbiamo fatto lì sul momento per il coinvolgimento dell'inizio e l'apertura di un tavolo di crisi. Sono 157 i lavoratori che rischiano il posto, età media 52 anni 200 con l'indotto. Al tavolo di crisi, secondo la Fasiolo, sarà possibile anche la presenza delle RSU. Ma in sostanza cosa chiedono a questo punto i lavoratori? Innanzitutto che la divigenza torni indietro e questa multinazionale possa ripensare, tornare sui suoi passi, cosa che non sembra difficile ma non impossibile. C'è anche un'altra richiesta da parte dei lavoratori ed è una richiesta che chiama pesantemente in causa Fincantieri. In secondo luogo la ricollocazione dei 157 e in ogni caso questo insomma che inizi una garanzia di inserimento nelle industrie vicine soprattutto nel colosso della Fincantieri. In questo senso il lavoro con la Fincantieri è bene che venga predisposto da subito. E siamo alla pagina della cronaca. Un triestino di 20 anni già segnalato e un monfalconese di 27, pregiudicato, sono stati arrestati domenica notte dai carabinieri per detenzioni illegali di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I due sono ora agli arresti domiciliari mentre un terzo ragazzo di 21 anni di Monfalcone, già segnalato, è stato denunciato in stato di libertà per il medesimo reato. Nella tarda serata di sabato i carabinieri sono intervenuti nel centro di Trieste dopo una segnalazione per schiamazzi provenienti da un'abitazione. Non appena i giovani inquilini hanno aperto la porta di casa, i militari hanno sentito un'acre odore di sostanza stupefacente e hanno così proceduto alla perquisizione personale e locale, rivenendo e sequestrando circa 130 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Sopraluogo del sindaco di piazza oggi al cantiere del nuovo polio intermodale di Ronchi dei Legionali, all'aeroporto. Vediamo il servizio che fa il punto della situazione e del sopralluogo. 18 migliori di investimento, veramente cambierà qualcosa di veramente importante sia per la città di Trieste che per i Friuli. Il 19 di marzo si inaugurerà, saremo a 45-50 minuti da Venezia, per cui pensate le opportunità con Venezia. Avremo 70 treni al giorno, 35 in andata, 35 in ritorno che passeranno davanti all'aeroporto, per cui grandi opportunità per raggiungere la nostra città. Fra il Porto Vecchio, fra il Porto Nuovo, fra la città della scienza 2020. Ci presentiamo veramente adesso con un fiore in occhiello. Ho trovato qui i ragazzi della ICI che hanno lavorato con me 21 anni fa a Mugia, che abbiamo fatto dei cantieri importanti e mi ha fatto anche piacere salutarli. Tornando all'aeroporto, veramente una qualità importante di lavoro. Le nostre aziende veramente sono al top in questo momento e si vedono questi cantieri puliti e ordinati. Ora un'altra notizia di politica. Si terranno domani mercoledì sulla piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle dalle 10 alle 21 le consultazioni online per le parlamentarie pentastellate dei 5 Stelle appunto. Fra i candidati Stefano Patuomenelli, già consigliere comunale, il consigliere regionale Elena Bianchi che in virtù del nuovo statuto potrebbe lasciare Piazza Oberland per correre per il Parlamento e Vincenzo Zoccano, presidente della consulta regionale disabili. Ora parliamo invece di un corso antissoffocamento per i genitori dei bambini triestini. Sentiamo perché. Una lettera personale firmata dai pediatri triestini, dalla Croce Rossa e dal Comune sarà consegnata in questi giorni ai genitori. Scopo della lettera è presentare il progetto Disostruzione delle vie aeree, realizzato con il patrocinio dell'Ordine dei Medici, dell'Aswitz, del Burlo e appunto di Palazzo Sipario. L'obiettivo del progetto è fornire una competenza per risolvere quegli episodi di ostruzione acuta delle vie aeree, problema che spesso può presentarsi soprattutto con i bambini più piccoli, ma anche di creare una rete di sicurezza e sostanzialmente di solidarietà fra genitori, sempre nell'ottica della sicurezza dei più piccoli. Gli effetti ostruttivi in generale riguardano circa 300 eventi di soffocamento all'anno in Italia, di cui un sesto e 50 sono a carico di bambini. Quindi noi abbiamo 50 morti bambini e 600 morti totali per causa di soffocamento. Nella lettera si chiede ai genitori di visionare almeno tre volte un video della Croce Rossa, quello che stiamo vedendo in questo momento, per accedere al quale viene fornito un link, video che spiega come funziona la manovra di disostruzione. Chi fosse interessato ad approfondire il tutto potrà contattare la Croce Rossa allo 040 31 31 31 il martedì e il giovedì dalle 16 alle 18 e prenotare un appuntamento in una sede fornita dal comune, durante il quale gli istruttori certificati della Croce Rossa proporranno una lezione informativa di tre ore. È previsto anche un servizio di babysitter per chi decidesse di portare i bambini con sé. Lezione che servirà per chiarire le nozioni presenti nel video e per addestrare al meglio all'intervento di disostruzione, che va detto è utile anche qualora debba praticarsi su un adulto. Dopo sei mesi i genitori verranno richiamati per ripassare le competenze eventualmente acquisite. Ci fermiamo un istante per la pubblicità, ci vediamo tra poco con la pagina sportiva e non solo. Seconda parte del nostro telegiornale, un articolo del Guardian quotidiano britannico d'opinione dedicato al Car, solo che lo scrittore Nick Hunt, esperto camminatore, analizza dal punto di vista dell'influenza della Bora, ma dimentica il fenomeno delle grotte eoliche. Sentiamo il servizio del nostro Umberto Bosazzi. L'avvicinarsi delle elezioni politiche e della coda regionale qualche settimana dopo farà di certo imbizzarrire Triestini e Disontini che sui quotidiani nazionali e sui radio e telegiornali perlomeno fino a maggio sentiranno parlare di e leggeranno soltanto Friuli e non di Friuli Venezia Giulia, tant'è non è che non si sia abituati. Rinfranca un po' la lettura di un articolo che appare nell'edizione internazionale del Guardian dedicato al Carso, correttamente identificato nei propri confini geografici e di appartenenza. Firmato da Nick Hunt, scrittore camminatore, il pezzo contiene più nozioni geografiche e fisiche con una serie di rilievi emozionali e prende le mosse dal vento. Uno degli interessi dell'autore che ha scritto un libro sull'argomento. Da quella Bora che, è vero, soffia velocità tremenda, ma che secondo Hunt pulisce l'aria e rende il cielo azzurro. Ce ne sarebbe bisogno costante a Servola, ma questo è un altro discorso. Un vento che costringe gli abitanti del Carso, dice Hunt, a starsene chiusi in casa, per traslato a starsene soli e perciò forgia un carattere piuttosto duro se non addirittura testardo. La bellezza del Carso, secondo l'autore, sta proprio nella sua rusticità e semplicità, ma anche in quei locali che a volte passano persino inosservati, già che privi di insegna e affidati ad una semplice gestione familiare. Nick Hunt, per sua stessa missione, non ha visitato le numerose grotte carsiche, perché, egli sostiene, il vento non vi soffia, dimostrando così di non conoscere il fenomeno delle grotte eoliche, ma soprattutto autoprivandosi di un'ulteriore fonte di interesse fornita dalle nostre zone. Passiamo allo sport, larghissima vittoria dell'Alma contro Orzinuovi, 41 punti di scarto, 100 punti superati e testa della classifica che appunto rimane in mutata per l'Alma. Mare liscio come l'olio per l'Alma, che affetta di prua senza sforzo, l'ha mai capitata Orzinuovi. La prima del girone di ritorno si chiude con un perentorio 105 a 64. Si potrebbe esaltare la partita del solito green a tutto campo, 27 punti a referto, potremmo rimarcare la progressiva crescita di Bowers, 19 punti e soprattutto una condizione sempre più rimpurante, ma ci soffermiamo invece sulle cifre di Matteo D'Aros, 10 assist e 8 rimbalzi. E chi se ne frega se il tabellino recita due segnature, è proprio questo lo spirito, uno per tutti, tutti per uno. Come l'altro moschettiere Lofsky, che prima di sparare triple a mitraglia nel secondo tempo, si sciroppa la marcatura di Adam Sollazzo, lo ricordate con Treviglio? Che praticamente per metà gara non vede il canestro, tutti a disposizione dell'obiettivo. La cronaca? Beh, onestamente basta e avanza quella dei primi due quarti. E Fernandes a tracciare la strada all'avvio con accelerazioni e conclusioni per se stesso e i compagni. Al primo time out del neococcio Finelli, Trieste ha già doppiato gli ospiti, 16 a 8. Poi è tempo per Green di salire di colpi, mentre la squadra dà per l'ennesima volta prova delle proprie qualità difensive. Lagri Bertocchi sembra già accusare il colpo sul 31 a 17 sotto le bordate delle transizioni bianco-rosse. Pure Prandine e Baldasso mettono il loro mattoncino nella seconda frazione, mentre Lorenz Bowers mostra scintille di classe sempre più evidenti. Nonostante i tanti cambi nel roster, Orzi Nuovi è incapace di reggere l'urto e la tripla di Fernandes consegna il 57 a 30 di metà gara, già ampiamente sigillata. Si riprende senza particolare patos, con applausi assortiti per il giocato di Cavaliero e Loschi e mentre pure i giovanissimi del vivaio fanno la loro apparizione in campo, si attende solo lo scollinamento del centello che puntualmente arriva con Cittadini. Bene, allora questa sera Caffè dello Sport con Matteo Praticò, vice allenatore dell'Alma, Andrea Bracaletti per la Triestina, ma parleremo anche del San Luigi che ha vinto la Coppa Italia d'eccellenza. Andiamo a vedere la situazione della Triestina, fermo il campionato DC, Triestina alla ripresa degli allenamenti con una serie di amichevoli, ma soprattutto sul fronte mercato in attesa dello sblocco della situazione del Vicenza, insomma ormai al fallimento, e cosa ha fatto lo scambio Castiglia-Maisano con la Regina. Triestina tra campo e mercato. Per quanto riguarda la parte atletica, all'Unione sabato pomeriggio ha disputato un allenamento prima e un amichevole poi sul campo del Villesse contro la formazione locale. Buone indicazioni per Mr. Sannino che ha impiegato tutta la rosa a sua disposizione ad eccezioni di Grillo, Acquaro, Hidalgo, Troiani e Mensà. Una partitella utile per mettere minuti sulle gambe e soprattutto per quei giocatori che hanno bisogno di riprendere confidenza con il campo. Uno su tutti i mori che ha giocato circa un'ora dell'intera partita. Per ciò che riguarda il risultato, i rosolabardati hanno segnato tre gol, tutti nel secondo tempo. Al settimo minuto con Pastore, Lesto è insaccare da pochi passi un corner di Bracaletti spizzato sul primo palo da Elasni. Al venticinquesimo la volta di Rashida Arma, imbeccato da un corridoio rasoterra di Bracaletti e abile a rendere vana l'uscita del portiere avversario con un diagonale mancino. Infine, cinque minuti più tardi, ha referto Maudo Keita, grazie a un improvviso quanto potente diagonale sinistro a mezzo altezza dei 18 metri. Il punto è sul mercato. Il caso Vicenza ha scombinato le carte nel panorama della Serie C e ha ruota anche tra i dilettanti. Nei giorni scorsi sono partite ufficialmente le prime richieste per l'arbitrato, che deciderà lo svincolo d'ufficio, per cui ci vorranno ancora un paio di settimane circa. I pezzi pregiati non mancano e molte società restano alla finestra per i giocatori migliori, come l'attaccante Comi, che ha il suo attivo a nove retti in 18 presenze. Per quanto riguarda il resto, ha preso nei giorni scorsi l'addio del portiere Perisan, arrivato il rosso labbardato a inizio anno, con la formula del prestito da parte dell'Udinese e ora ha prodato l'Arezzo e detto anche dell'impiego a titolo di prova di Saibo Maudo Keita, attaccante classe 97 di doppia nazionalità norvegese gambiese con un recente trascorso tra le fila dell'Arca Ghedegna, ragazzo che peraltro sta ben figurando anche grazie alle due reti segnate contro il Muglia Fortitudo. Le ultime riguardo le trattative tra club interessano uno scambio con la regina. In Calabria andrà Ivan Castiglia, a Trieste arriverà Carmelo Maesano, classe 96, che può giocare sia come terzino destro che sinistro. Infine c'è da considerare che la partenza di Castiglia sblocca un posto da destinare a un over e qui ricorrono nuovamente le voci su un possibile ingaggio di Della Rocca. Bene, parliamo ora anche del San Luigi che ha vinto la Coppa Italia d'eccellenza. Abbiamo intervistato il presidente della compagine nostrana Peruzzo. Sentiamo. Non arrivava mai la fine. Personalmente ero molto convinto che riuscivamo a portarla a casa. Ci siamo riusciti e quindi bene. Era teso durante la partita? Parecchio, parecchio. Non eravamo mai arrivati a questo punto, quindi per noi già fare la finale era un grosso risultato. E poi vincerla è una cosa veramente eccezionale. Una partita tirata e una vittoria è arrivata al culmine dei tiri dal dischetto. Il San Luigi ha sollevato la Coppa Italia di eccellenza sabato pomeriggio sul campo di Gemona contro il Toro Viscosa. Una partita che gratifica il lavoro che la società giuliana sta portando avanti in questi anni, ma guai a dire che l'euforia potrà distrarre dal proseguio degli impegni sportivi. L'euforia ce l'abbiamo ancora dentro, però ce la siamo sfogata domani, sabato notte, e adesso domani si riprendono gli allenamenti su questo campo, sarà il primo giorno domani di allenamento. Siamo ben consci di cosa ci aspetta, vorremmo fare di questo campo un nostro fortino. Vogliamo veramente far sì che questo risultato e anche l'evento in questa settimana del campo possa portare a un qualcosa di forte e di concreto. In questo contesto il San Luigi si sente parte trainante, assieme a numerosi altri club locali, del calcio dilettantistico giovanile di Trieste, al netto inoltre di un rapporto non collaborativo con la Triestina. Siamo noi società dilettantistiche che portiamo avanti il calcio a Trieste. Due anni fa, tre anni fa abbiamo vinto il titolo regionale dei giovanissimi, l'anno prima l'aveva vinto il Trieste Calcio con gli allievi, e questo sicuramente era dovuto al fatto che la Triestina non faceva il titolo regionale, o lo faceva in una determinata maniera. Oggigiorno con la Triestina è evidente che noi stiamo pagando qualche risultato, però secondo me, ma non secondo me, soltanto, secondo diversi presidenti, manca questa collaborazione perché non è il caso di dirlo, però quest'anno la Triestina nei confronti delle società dilettantistiche non è che si sia comportata molto bene. Allora, in chiusura di telegiornale, vi lascio in compagnia della rubrica sui 40 anni di Tele4, torniamo al 92 e vi facciamo vedere un servizio realizzato in occasione di una visita in città di Don Luigi Ciotti, protagonista di una lezione speciale per gli studenti del Da Vinci. Buona serata. Ora 9, centro congressi della stazione marittima. Per gli studenti del Da Vinci comincia una lezione di vita. In cattedra Don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Abele, che da anni opera sul fronte del disagio giovanile attraverso la comunità di recupero e interventi di sensibilizzazione nelle scuole e nelle parrocchie. Una platea gremita lo ascolta e Don Ciotti, che dal 67 ha contatto con i problemi più gravi dei giovani, dalla tossicodipendenza all'alcolismo, alla prostituzione, all'AIDS, di cose da insegnare ne ha molte. Un tesoro di esperienze accumulate nel campo della solidarietà sociale. Prima di parlare, Don Ciotti ha ascoltato le domande rivoltegli dagli studenti sui motivi psicologici alla base del disagio, sulle terapie che vengono applicate all'interno del gruppo Abele e c'è stato anche chi ha sollevato dei dubbi sull'efficacia della solidarietà. Don Ciotti ha quindi esposto la sua filosofia, molto semplice. Oltre che affrontare i problemi, si tratta di creare una coscienza nei giovani, richiamandoli alle responsabilità personali che ciascuno, adulto o ragazzo che sia, ha quando sceglie una determinata strada. Colpevorizzare il sistema, insomma, è sbagliato, superficiale. La famiglia ha un ruolo importante, ma non tutto dipende dai genitori. Tocca ai figli rispettare i valori per costruire la propria esistenza. Le parole di Don Ciotti, vibranti e appassionate, hanno scaldato la platea che lo ha applaudito a lungo quando il commissario Mazzurco gli ha consegnato il sigillo dell'amministrazione provinciale. Un gesto che interpreta, ha detto una studentessa, la nostra gratitudine ad un uomo. Grazie. Grazie.